leo il camioncino curioso la fontana leo il camioncino curioso e l'escavatore max stanno giocando a calcio ciao bella giornata per giocare con il pallone sì sì tiro lungo guardate bambini c'è lea ciao lea bel giardino deve essere stato un lavoro lungo altro che che succede robot viola avete una macchinina telecomandata buon divertimento il robot rosso ha trovato il pallone giro tondo intorno al giardino di lea i robot si stanno divertendo attenzione il pallone ha receso delle margherite o no anche la macchina rompe i fiori i robot non vogliono farsi prendere perché arrabbiarsi sono fiori ricresceranno lea ha sequestrato tutti i giocattoli perché i robot non rispettano le aiuole qui sarebbe bello un giardino tipo giapponese ecco lì puoi mettere una fontana sicuramente la tua è una bella idea ma ci devo pensare lea ha deciso di disegnare il progetto per la fontana eccolo dei massi con riciclo d'acqua oh sì impegnativo il progetto ma molto bello troviamo tutte le parti per costruirla io intanto scavo la buca wow è molto profonda oh povera denna un masso pesante aiutatemi ancora vai salve amici c'è qualcosa che posso fare aiutaci a tirare è molto pesante ben inserita nel terreno anche i robot danno una mano non ci riesco finalmente il massa è venuto fuori dal terreno tutti festeggiano il robot rosso non perde tempo e alla guida del camion gru con il suo potente braccio ottima collocazione il masso delimita l'entrata al giardino leo porta le parti della fontana assembliamola insieme bambini e allora il serbatoio che contiene l'acqua mettiamo delle luci due quattro cinque la pompa che spinge l'acqua i tubi dove passa l'acqua con filtro perché non si intasi la base dove collocare le pietre il tubo per portare l'acqua in alto quattro pietre con tubi al centro una due tre e quattro vai ottimo robot le pietre intorno al bordo sono fantastiche bellissima apro il rubinetto non funziona il fatto è che nella vasca non c'è l'acqua qual è il veicolo che trasporta l'acqua bambini la betoniera la cisterna carburante la fontana si sta riempiendo evviva grazie guardate bambini la fontana funziona e anche le luci il robot viola è indisciplinato non sprecare l'acqua l'acqua è preziosa si l'acqua è importante bambini alla prossima avventura con Leo e i suoi amici